due amiche si danno appuntamento al bar si siedono e cominciano a parlare dopo un po' arrivano all'argomento sesso e una fa all'altra ma tu scusa tu quando fai l'amore ma glielo dici a tuo marito quando raggiungi l'orgasmo e l'altra a me non glielo dici vero no è che non voglio disturbarlo quando è in ufficio se ti è piaciuto il mio video e vuoi vederne altri iscriviti al mio canale youtube cliccando sull'icona qui a destra ah dimenticavo è gratis